Un serial killer si aggira in città. C'era un buon, lei sta mentendo. Ci sto prendendo sotto gamma. Death V.I. brancola nel buio. Si richiede l'aiuto di un grande esperto. Scrivimi il tuo più sozzo, succuletto, sanguinario, schifoso e stordo sui miei. Prosciutto. È un caso intricatissimo. No, non era niente al confronto. Un giallo mozzafiato. Benvenuta al Semettieri Motel. Ezio Greggio in una terrificante storia di omicida. Il silenzio dei prosciutti. Domenica alle 20.30 su Italia 1.